Bene, allora questo è lo scrigno dei draghi. Bene, adesso posso aprirlo. Bene, lo ho aperto. Ma la mia domanda è, cosa c'è dentro questo scrigno? Voglio dare una sbirciatina per vedere cosa c'è. Wow, guarda quante monete! Non ci credo, sono tutte sbrilluccicose. Bene, credo che questo tesoro me lo porterò via con me. Bene, ora devo capire soltanto come devo portare questo tesoro in casa mia. Beh, forse come faccio di solito, portandolo tra le mie mani, volando. Bene, vieni con me, mio tesoro. Un'ora dopo? Bene, a meno le Glimis non sapranno mai che ho preso il loro tesoro. Beh, così con questi soldi potrò finalmente costruirmi un regno tutto mio. In questo regno deserto sono tutto solo. Ma finalmente con questi soldi potrò costruire un regno tutto mio con tanti draghi. Yuppie!